buongiorno sono chloe sales consultant presso umbrosa umbrosa sviluppa produce e vende gli ombrelloni più belli del mondo la nostra sede centrale è in belgio da dove spediamo in più di 80 paesi in tutto il mondo è molto facile chiudere e aprire l'infina per chiuderlo bisogna sfilare la corda dal palo tirare e si chiude quasi in automatico per riaprirlo prendi la corda lo tiri con un po di forza lo clicchi infili la corda ed è aperto è normale che il telo non è piatto piatto per far scivolare l'acqua ma anche per rendere l'ombrellone più resistente al vento per l'infina sono disponibili due basi c'è la base medium flat e c'è la base medium a crociera entrambi le basi hanno quattro ruote con un freno che si può bloccare e sbloccare sbloccando il freno è possibile muovere l'infina molto facilmente e per bloccarlo di nuovo si clicca il freno così ed è bloccato per esempio quando c'è troppo vento la base medium flat ha un peso di 50 kg mentre la base medium a crociera ha un peso di 120 kg ovviamente anche possibile installare l'infina con supporto su un terreno duro come il cemento la base circolare è sempre inclusa con l'ombrellone mentre se volete installare l'infina nell'erba per esempio bisogna ordinare un ancoraggio in cemento come ogni ombrelone di umbrosa anche l'infina è dotata di una custodia consigliamo vivamente di utilizzarla bene per proteggere meglio il telo la custodia è fatta da un materiale idro repelente non impermeabile e dell'intenzione perché l'aria serve per prevenire la muffa in caso di un clima un po' umido ora vi farò vedere come applicare al meglio la custodia ovviamente prima di tutto chiudiamo l'ombrellone prendiamo lo strap e lo stringiamo il più forte possibile nella custodia c'è una tasca nella quale potete mettere lo strap così che non vado persa e la custodia ha una stecca di fibra di vetro così che puoi prendere la custodia in basso e applicare molto facilmente la custodia sopra l'ombrellone umbrosa garantisce una bellezza funzionale che rende felici i suoi clienti se avete domande io sono Chloe e potete sempre contattarmi grazie a tutti